LORENZO Ricominciamo con l'energia che ci ha lasciato Lorenzo, che ringrazio. Prendiamo quell'uomo che è al centro della società liquida e cominciamo da lui. Io vorrei che ciascuno di voi si rivolgesse a questa domanda. Cosa voglio dalla vita? Qual è la mia massima aspirazione? Se avete la risposta o quando vi soverrà, tenetela lì, poi ci torneremo. Nelle filosofie orientali, principalmente il buddismo, l'induismo, tutto ciò che è composto non ha una propria natura, una propria essenza. Non è reale, è frutto di una convenzione. In questo periodo d'autunno, qui no, ma a Milano sì, vediamo le formazioni degli uccelli migratori e vediamo disegnate nel cielo delle frecce, dei cunei. In realtà, se noi fossimo là, insieme a loro, vedremo piume, penne, uccelli. Se noi ci addentriamo in una foresta, vediamo alberi, tronchi, arbusti, cespugli. Ma per quanto noi ci addentrieremo nella foresta, non incontreremo mai la foresta. Questo perché un sistema è formato dagli elementi che lo compongono. Non ha una sua essenza. Anche gli uomini fanno sistema e fanno sistema principalmente per difendersi, per organizzarsi, per raggiungere i propri obiettivi. Un sistema umano è composto dalle credenze, dalle opinioni, dalle convinzioni, anche disomogenee, delle persone che lo innervano. Non è dotato di una propria volontà, ma sono le volontà delle persone che lo compongono, che prima lo generano e poi lo direzionano. Questo concetto era stato molto ben espresso ancora a fine Ottocento da Tolstoi, che in Guerra e Pace diceva non è stato Napoleone a portare i francesi a Mosca. Sono stati i francesi che, volendo arrivare a Mosca, hanno generato un Napoleone perché ve li conducesse. Quindi se un sistema ha queste caratteristiche, la famiglia è un sistema, l'azienda è un sistema, l'esercito, lo Stato, la Chiesa, il mondo del lavoro, sono tutti sistemi. Certo, alcuni sistemi, come la famiglia, sono semplici, composti di pochi elementi. Altri sistemi, come il mondo del lavoro, sono molto complessi, composti da sottosistemi e così via. Noi facciamo parte, contemporaneamente, di un gran numero di sistemi. E per ciascuno di questi siamo chiamati, con le nostre scelte, con le nostre azioni, ad essere funzionali per quel sistema. Questo non è sempre possibile, perché spesso le scelte sono contraddittorie. E quindi una scelta che è funzionale per un sistema può risultare disfunzionale per un altro sistema. Però noi apparteniamo a entrambi. Il tipico caso è quello del lavoro e della famiglia. Io sottraggo tempo ed energia al lavoro per dedicarle alla famiglia e ai miei figli. Capita sempre il contrario. Però tant'è. Funzionale per un sistema, disfunzionale per un altro. Altre volte le anomalie sono finte anomalie. Sono anomalie di processo. Sembrano anomalie ma non lo sono. È il caso, per esempio, del plotone di ciclisti che percorre una strada e trova una rotatoria, un ostacolo. I primi lo aggireranno in una direzione e gli altri prendono una direzione diversa per aggirarlo nell'altra direzione, ma poi si ricongiungono perché la meta rimane uguale. Poi ci sono delle anomalie che sono disfunzionali per il sistema, ma generatrici di un altro e nuovo sistema. È il caso che avvenne, per esempio, nel 1823 in Inghilterra quando durante una partita del neonato football un giovane studente di nome Webb William Ellis prese il pallone con le mani e lo portò verso la linea di fondo. Il paese nel quale si giocava quella partita era il paese di rugby e di fatto fu inventato il rugby. Quando io ero piccolo, 5 o 6 anni, mi lamentavo spesso con la mia famiglia, con i miei genitori, con i miei parenti, perché non passavano abbastanza tempo con me. Io volevo crescere, volevo giocare, volevo stare con i grandi e mi lamentavo di questo. Loro si dichiaravano dispiaciuti, dicevano, sì, ci dispiace, però sai, noi abbiamo da fare, dobbiamo lavorare, abbiamo tante cose. e io sbottavo, dicevo, ma voi siete matti. Voi siete matti, voi tutti grandi a fare tutta la fatica che fate, tutto il lavoro che fate, tutte quelle cose che fate. Io da grande non voglio vivere in un mondo così. Io voglio vivere in un mondo dove tu schiacci un bottone e succedono le cose. Schiacci un bottone e il lavoro si fa. Loro mi guardavano un po' straniti, preoccupati. Uè, che scrive che mi aveva di lavorare? A Milano, inizio anni Sessanta. Ehi, questo non ha voglia di lavorare, era come bestemmiare in chiesa. E mi dicevano, guarda che non è possibile, non esiste questa cosa qui. Il lavoro non si fa da solo. Non puoi schiacciare un bottone e fare delle cose. E io ribadivo, no, non è vero. Quando io entro in una camera ed è buia, io schiaccio un bottone. e si accende la luce. Quando arriviamo a casa, entriamo in ascensore, schiacciamo un bottone e lui ci porta al piano. Noi non dobbiamo fare la fatica di fare le scale. Io voglio vivere in un mondo così dove tu schiacci un bottone e le cose si fanno, la fatica la fanno le macchine. e loro mi dicevano, ma tu in un mondo così cosa faresti? Io in un mondo così giocherei, mi diverterei, coltiverei relazioni, a sei anni non gli dicevo così, però il succo era quello, sto con gli altri. È esattamente quello che faccio oggi. Studio, mi diverto, sto con gli altri, coltivo relazioni. e posso farlo non perché schiaccio un bottone, meglio perché digito. E digitando succedono cose. Faccio lavori, ottengo risultati. Allora, io non lo sapevo, ma il mio DNA, il mio istinto, mi spingeva già nella direzione che avrebbe preso il branco nei 50-60 anni successivi. Allora, ero troppo fragile, insignificante, ero un'anomalia troppo solitaria e piccola per poter incidere nella realtà che mi era intorno. Ma i miei occhi erano in osservazione, le mie orecchie erano in ascolto, il mio essere era pronto a seguire quei leader che sarebbero venuti e mi avrebbero condotto nella direzione verso la quale io volevo andare. E quei leader sono arrivati, che si chiamassero Beatles, Che Guevara o Bill Gates, Steve Jobs, per i giovani d'oggi potrebbe essere Greta Thunberg. Quei leader sono arrivati, si sono manifestati e loro sono stati anomalia per il tempo che vivevano. Ma sono quelli come me, quelli come noi, come voi, che li abbiamo fatti diventare il sistema. Quei leader sono stati i Napoleone, noi siamo stati i francesi che li abbiamo immaginati. Altrimenti, non ci sarebbe stato progresso. e il mondo è cambiato e io penso che il mondo sia cambiato in meglio. Ma allora, se io faccio parte di più sistemi contemporaneamente, come faccio a sapere se in un sistema debbo sforzarmi, migliorarmi, dare il meglio di me per contribuire alla funzionalità di quel sistema oppure, se non sia preferibile, sparigliare e prendere il pallone con le mani. All'inizio di questo intervento vi ho fatto una domanda. Cosa voglio dalla vita? Qual è la mia massima aspirazione? Io non so quali siano le vostre risposte. Se diventare l'uomo più ricco del mondo, proprietario di un'isola, avere una vita sana, morire a cent'anni, una famiglia numerosa o che altro. So però che tutte le vostre risposte, qualunque siano, hanno un unico comune denominatore e quell'unico comune denominatore si chiama felicità. Io voglio essere felice, noi vogliamo essere felici perché tutti gli uomini vogliono essere felici. Ma guardate che quando parlo di felicità non intendo il momento di gioia, una generica contentezza, non intendo il pensiero positivo piuttosto che tramutare il problema in un'opportunità o cose del genere. La felicità per come la intendo io è qualcosa di più profondo, qualcosa che ha a che fare con l'autorealizzazione. Merlino diceva con il potenziale umano. Ecco, la felicità è quella cosa lì. La felicità in questa accezione non è un obiettivo, è un bisogno della persona, è un bisogno dell'essere, è una responsabilità personale. Riuscirò a essere felice nella misura in cui mi adopererò per essere felice di essere autentico. Quella è la felicità. E come faccio a ottenere quel tipo di felicità? Io penso che ciascuno di noi attraverso l'introspezione, attraverso la consapevolezza debba ricercare quel bambino che è stato, quello che voleva schiacciare i bottoni e mettersi in contatto con lui. E l'adulto che siamo oggi dovrebbe prendere quel bambino per mano, sorreggerlo, proteggerlo, aiutarlo, ma lasciare che sia lui a prendere le decisioni che contano. Perché quel bambino lì sa che il dono della vita è il dono della felicità, che il potenziale umano preme per essere espresso, che lui sa dove è l'eccellenza, lo sa quel bambino, allora lui ci indicherà qual è la strada e da certi sistemi ci farà uscire fuori e noi saremo felici per il fatto stesso di esserne usciti e di renderci conto che abbiamo recuperato tempo ed energie. In altri sistemi invece ci spingerà ad adoperarci, a migliorarci, ad allenarci, a giocare il pallone con i piedi perché quella fatica che faremo servirà ad essere funzionali a un sistema che ci porterà nella direzione dove vorremmo andare. E infine, altre volte, quel bambino ci spingerà a raccogliere quel pallone da terra che tutti prendono a calci, a stringerlo al cuore e a correre con quello verso la linea di fondo. Allora, in quel momento, a noi non interesserà a sapere se siamo anomalia o siamo sistema perché in quel momento con quel pallone al cuore noi saremo felici e nella vita non ci servirà altro. Grazie. Grazie. Applaus Grazie.